Musica Indagini relative all'eclatante omicidio di Sebastiano Greco avvenuto il 10 ottobre a Lentini quando due soggetti col volto travisato lo hanno freddato esplodendo numerosi colpi di arma da fuoco al suo indirizzo di fronte a una panetteria in pieno centro i carabinieri del nucleo investigativo di Siracusa, della compagnia di Augusta e della stazione di Lentini hanno notificato ai soggetti un ordine di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP il dottor Andrea Mignieco sono stati fermati a Bosco, Sascha e Antony nel pomeriggio dello stesso giorno dell'omicidio e il secondo nella serata del 14 ottobre dopo alcuni giorni di fuga sono accusati di essere gli autori del grave fatto di sangue sul quale sono ancora in corso indagini volte in particolare a chiarirne il movente in particolare i due uomini si sono incontrati la mattina del 10 ottobre in sella a un motorino e si sono recati al centro di Lentini di fronte alla panetteria di Via delle Grazie hanno atteso l'arrivo di Greco col quale era iniziata una discussione all'improvviso Milone ha estratto una mitraglietta e ha colpito ripetutamente il Greco alle gambe cagionando gli ferite tanto gravi da causarne la morte i due malviventi si sono recati in un esercizio commerciale hanno convinto il conoscente ad accompagnarli altrove con in macchina l'uomo in auto ha capito però che la situazione era scottante e ha invitato a scendere i due suscitando ancora alla volta l'ira del Milone che per vendicarsi del mancato aiuto ha sparato anche al suo indirizzo fortunatamente senza attingerlo mortalmente poi la rapina ad una persona anziana della sua vettura con la quale però forse a cagione dell'agitazione è andato a collidere contro un muro dileguandosi poi a piedi sono stati sottoposti a fermi di indiziato di delitto emesso dalla procura ed è stata nell'immediatezza condotto presso la casa circondariale di Catania a piazza Lanza dove tuttora permane Si registrano ancora casi di positività per il covid-19 in provincia di Siracusa le ultime notizie segnalano due dipendenti positivi nella palazzina di Corso Gelone dell'azienda sanitaria provinciale sono stati chiusi i locali, saranno sanificati e tampone rapido e molecolare è previsto per il personale e tutti i contatti stretti i due dipendenti sono asintomatici e sono in isolamento le ultime notizie ci raccontano di una classe posta in quarantena nella scuola di infanzia Costanzo è crescita dei numeri depositivi a Melilli dove si passa al 19 in isolamento domiciliare 49 persone e a Solarino dove il numero resta di 19 persone positive sono 8 i casi di positività al covid-19 in seno alla comunità cittadina di Floridia 40 i casi invece di persone che sono poste a regime di quarantena proprio per contatto a persone positive e che successivamente, dopo i 10 giorni trascorsi, dovranno eseguire tamponi di verifica ad assicurarlo è il geometra Marco Paparella responsabile del COC, centro operativo comunale di Floridia in quotidiano contatto via mail con l'azienda sanitaria provinciale di Siracusa attraverso una mail giornaliera vengono resi noti gli eventuali casi di positività o di contatto diretto e le misure prese di conseguenza tra i 40 con cittadini in quarantena anche gli studenti della classe quinta del liceo a stretto contatto con la studentessa di Solarino contagiatasi in famiglia stanno svolgendo didattica a distanza e dovranno aspettare tra oggi fino al 24 ottobre per effettuare i tamponi e in caso di auspicata negatività riprendere la propria vita quotidiana e rientrare a scuola il centro operativo comunale si è occupato da subito dell'emergenza covid con la distribuzione alimentari, delle mascherine, dei bonus grazie anche ai volontari di Caritas, Cri, Nuova Acropoli e Misericordia e oggi resta punto di riferimento per l'emergenza i comuni di Augusta e di Floridia hanno scelto i propri sindaci dopo il ballottaggio del 18 e il 19 ottobre i dati delle affluenze intanto dicono che si sono recati alle urne meno votanti di aventi diritto di quelli che si sono espressi per il 4 e 5 ottobre ad Augusta ha votato il meno 18,82% soltanto il 42,98% dei 32.451 aventi diritto si è recato al voto per 13.946 elettori a Floridia hanno votato 8.768 votanti il 43,68% dei 20.073 aventi diritto meno 16,11% rispetto ai risultati del primo turno Augusta sceglie Peppe Di Mauro l'ex consigliere e consulente finanziario ha ottenuto 7.425 voti il 54,59% mentre Pippo Gulino si è fermato a 6.195 voti per il 45,49% Floridia sceglie il giovane Marco Carianni con 5.002 voti il 58,89% degli eventi diritto mentre Salvo Burgio si ferma a 3.492 voti il 41,11% e mentre a Floridia Carianni avrà la maggioranza al Consiglio Comunale con i suoi 10 consiglieri mentre gli altri 6 saranno affidati a due rappresentanti per il candidato Burgio due per il candidato Fontana e due per la candidata Claudia Faraci ad Augusta invece Di Mare potrà usufruire di 5 consiglieri uno con Cambia Augusta, due per Cento per Augusta e due per Destinazione Futuro le liste appunto che lo hanno sostenuto apparentemente effettuato invece dal candidato Gulino che farà scattare 13 seggi due per le liste Civica per Augusta Democratici e Progressisti attivamente tre per Augusta 2020 e quattro per Nuovo Patto per Augusta gli altri due consiglieri saranno per Augusta Coraggiosa Carruba Sindaco e tre per Movimento 5 Stelle Floridi ha scelto il proprio sindaco Ucaruso il giovane Marco Gariani di 24 anni contabile, già consigliere comunale, già assessore nella giunta Limoli figura intorno alla quale si sono stretti molti concittadini giovani e meno giovani sopportato da due liste Civiche Progetto Floridi e Floridi a Futura senza nessun apparentamento è stato preferito da 5.002 votanti al ballottaggio accolto ieri pomeriggio tra applausi e complimenti in piazza anche il suo competitor Salvatore Burgio che ha ottenuto 3.492 voti ha voluto affettosamente accarezzarlo in un incontro in piazza Umberto poi gli ha augurato un buon lavoro ecco cosa ha dichiarato ai nostri microfoni noi dai 2.100 e qualcosa abbiamo fatto uno sforzo notevole arrivando a 3.500 il candidato Cariani penso che abbia raggiunto circa i 5.000 voti io già l'avevo compreso non potevamo combattere contro i mulini a vento il vento era quello di far votare Cariani e proprio per questo siccome la gente mi diceva di non apparentarmi io sono convinto di aver preso molti voti di persone che hanno che hanno capito la mia scelta che era quella di non apparentarsi ha vinto Cariani e soprattutto Cariani avrà la possibilità di governare questa città onore al candidato Cariani e alla squadra di Cariani come si suol dire avrà 5 anni per dimostrare le capacità di governo di questa città non ho più nulla da dire ci sarete sempre per Floridia? ma la mia scelta che ho fatto è proprio per Floridia altrimenti avrei fatto una scelta diversa quella dell'apparentamento io non mi sono voluto apparentare proprio per non dare alibi in questa città a nessuno Marco semplicemente Marco rimarrò a vostro servizio non cambierà nulla ha subito chiarito il mio eletto sindaco che ha salutato così la sua neossunta carica di primo cittadino mi posso solo dire grazie 40 anni fa mio nonno in quella stanza quando fu eletto deputato regionale disse da soli non si va da nessuna parte da soli non si va da nessuna parte questo risultato è frutto del vostro lavoro io mi sono speso ci siamo spesi insieme e voi siete stati più bravi di me grazie grazie ai candidati al consiglio comunale ai quali faccio i miei migliori auguri ma raccomando perché ora si deve lavorare dobbiamo lavorare per continuare a servire questa città e insieme lo possiamo fare tranquillamente abbiamo vinto una battaglia contro i mulini a vento siamo nelle condizioni oggi grazie alla vostra fiducia di scrivere una nuova pagina politica per questa città io ho soltanto la penna tutto quello che c'è da scrivere l'avete scritto ieri e oggi voi e continueremo a scriverlo insieme se Dio vorrà e se voi continuerete se voi continuerete a crederci insieme a noi ha ringraziato tutti coloro che si sono spesi per lui e lo hanno collaborato in questa lunga campagna elettorale ha raccomandato ai suoi neoletto i consiglieri comunali di tenersi pronti per la grande mole di lavoro che li aspetta sono 10 in tutto i consiglieri nominati tra progetto Floridi e Floridia Futura 5 le donne Maria Eve Paparella già dipendente comunale di 64 anni Giuse Garofalo lavoratore dipendente di 38 anni Barbara Di Mauro psicologa anni 39 Ed Elena Leotta di 20 anni addetta alle vendite è la maggior donna votata al consiglio comunale Ho partecipato a queste nuove amministrative credendo in Marco nella giovane età di Marco come lui anche io sono giovane ho iniziato questo percorso insieme alla squadra che mi ha supportata e sono davvero emozionata di partecipare per questi 5 anni a queste amministrazioni Con quale sentimento? Con quale responsabilità? Una grande responsabilità perché dobbiamo rappresentare Floridia i giovani e tutti e sono davvero felice di questa nuova esperienza per me Tra gli uomini invece sempre legati al movimento di Carianni configurano Giorgio Tata imprenditore edile di 27 anni Enzo Greco operatore socioassistenziale di 42 anni Concetto Mazzarella operaio di 55 anni Gianluca Faraci lavoratore dipendente di 39 anni Davide Spadaro medico di 44 anni e l'avvocato Salvatore Pappalati Siamo partiti un anno fa con Marco e non pensavamo di arrivare a questo risultato così importante quindi questa cosa ci responsabilizza un sacco anche perché abbiamo la maggioranza in consiglio e quindi non abbiamo alibi dobbiamo lavorare ci dobbiamo impegnare la cittadinanza ci guarda perché siamo una novità assoluta perché abbiamo un consiglio comunale completamente nuovo addirittura ci sono credo soltanto due consiglieri comunali uscenti che sono stati riconfermati quindi di fatto abbiamo i 14 sedicesimi del consiglio completamente nuovi credo di non sbagliare però insomma noi siamo 10 tutti nuovi quindi questa è una cosa forse mai successa o no mai successa nella storia del paese questa cosa ci responsabilizza tanti problemi tutti sulle spalle nostre di Marco che è giovane ha 24 anni e noi lo aiuteremo faremo in modo di aiutarlo Siederanno ancora sui scranni del consiglio comunale Renzo Spada autista soccorritore del 118 45 anni Miro Giarratana insegnante e docente 59 anni con esperienza amministrativa ancora Marzia Scalora avvocato di 35 anni e Sala Antonino avvocato di 53 anni anche Gaetano Vassallo di 45 anni commercialista e Luca Brunetti militare dell'aeronautica Sigonella 42 anni nessun seggio per Gallitto rimane fuori il più votato Enzo Di Mauro e ancora nessun seggio per Giovanni Limoli Marco Cariani si insiederà giovedì al comune di Floridia con lui la sua giunta pronto a coadiuvarlo accanto a lui Gianfilippo Marino quarantenne responsabili di servizio economico e finanziario contabilità e armonizzazione di sistemi contabili ancora Antonio Nizza architetto siracusano di esperienza internazionale collaboratore dello studio Renzo Piano Paola Gozzo 46 anni docente e vicepresidente Focus che sentiamo ai nostri microfoni c'è grande necessità chiaramente di recuperare un dialogo con tutte le associazioni floridiane che si occupano di cultura e ovviamente puntare a una rinascita dell'identità storica e culturale di questo paese e siamo contenti di poterlo fare insieme a un'amministrazione di maggioranza insieme a questo gruppo con Marco Cariani sindaco sarà data particolare importanza alle scuole ai problemi pratici e quotidiani delle scuole e cercherò di fare insieme all'aggiunta un lavoro di recupero appunto del dialogo con enti ed associazioni perché la cultura la dobbiamo vedere in modo ampio riguarda sì gli eventi che possono essere sociali e culturali ma anche e soprattutto il recupero dell'identità storica di questo paese perché ne ha davvero tantissimo bisogno in giunta anche il maresciallo della guardia costiera Giovanni Ricciardi allora sicuramente partiamo dal presupposto che per me sicurezza significa vivibilità quindi la sicurezza dei nostri cittadini è un fattore importantissimo dobbiamo sicuramente essere più presenti sul territorio dobbiamo controllare dobbiamo verificare perché il territorio non può essere lasciato a se stesso e le mie intenzioni sono quelle di essere veramente presente sul territorio perché non amo lasciare le cose indietro Floridia per me rappresenta un qualcosa di personale io diciamo ho origini floridiane e per cui ritengo che sia importantissimo per me raggiungere degli obiettivi importanti a Floridia ripeto Floridia merita di di avere un'amministrazione con a capo Marco che lavori ogni giorno sul territorio per ascoltare e risolvere i problemi di Floridia lei è da tanto tempo ormai vicino a questa squadra giovane che stava lottando per la candidatura come la vede questa squadra pronta mi dà un giudizio su Marco sulla squadra guardi io sono un uomo di squadra perché sono un militare quindi di conseguenza diciamo la squadra è stata sempre il diciamo il senso della mia carriera e le posso garantire che la squadra è molto coesa non soltanto diciamo quella parte che andrà a amministrare la città di Floridia ma anche quello che sta dietro cioè dietro abbiamo un grande valore un valore aggiunto alla squadra che porterà sicuramente tanti risultati oltre che consigliere comunale farà parte della giunta Marieve Paparella a lei assegnata la rubrica dei servizi sociali sicuramente cercheremo di attenzionare più che altro le famiglie che hanno difficoltà socio-economiche sarà quella la nostra priorità sicuramente i bambini disabili così dovremmo anche rivedere un po' l'ASACOM la progettualità dell'ASACOM io già ho visto che vorremmo riprogettarla attenzionare anche i fondi del distretto socio-sanitario di Siracusa a poter portare il più possibile risorse al comune di Floridia classe 57 tra i consiglieri comunali si definisce la più saggia più vecchia la più diversamente giovane come la sì è una una bella esperienza e grazie a Marco che mi ha dato questa opportunità vorrei se è possibile portare le mie competenze da dipendente comunale all'interno del consiglio comunale poter dare la mia la mia professionalità quella acquisita all'intero all'intero all'intera comunità di Floridia lavorando al comune di Floridia subisci le scelte politiche dei dei vari amministratori ora io vorrei essere proprio dall'altra parte della scrivania per poter dare e fare delle scelte diverse di quelle che abbiamo vissuto negli ultimi anni accanto a Marco anche il coordinatore provinciale di Italia Viva Tiziano Spada che analizza un percorso voglioso di progettare il futuro dopo diversi anni di cattivo governo di malamministrazione di questa nostra comunità abbiamo deciso di fare un investimento che potesse dare lustro alla comunità di Floridia lustro che manca da diversi anni e abbiamo scelto di investire su Marco un giovane ragazzo ambizioso ma che già tra le sue corde ha tantissimo carisma ma soprattutto tantissima esperienza da vendere nonostante i due anni di consiglio comunale Marco è come l'avete visto un ragazzo pieno di entusiasmo che riesce a trasmettere anche la speranza nelle persone con cui parla e io sin da subito ho deciso di investire in questo progetto perché alla fine se non investiamo noi giovani sulla costruzione del nostro futuro chi lo deve fare? Una vittoria di quanti hanno creduto in un progetto giovane nuovo voglioso di rompere con il passato e in grado di voler fare di crederci Marco è solo la punta di un iceberg di una comunità che ha provato e voluto il cambiamento cambiamento comunicato anche attraverso una campagna che ci racconta l'addetto stampa Alberto Gervasi abbiamo scelto uno stile giovane uno stile accattivante uno stile soprattutto diretto nei confronti dell'elettorato abbiamo sfruttato al massimo quelli che sono i social network abbiamo parlato al cuore della gente e alla loro testa perché credevamo e crediamo ancora che al di là degli slogan poi ci debba essere bisogno del contenuto quello che è stata la campagna elettorale di Marco Carianni dai comizi regionali agli appuntamenti in piazza ai discorsi con la gente durante tutta la campagna elettorale nei rioni della città il messaggio è stato chiaro vogliamo costruire il futuro e continueremo così come abbiamo iniziato perché è vero che abbiamo fatto un percorso importante un percorso difficile un percorso in cui abbiamo scelto di essere chiari in cui abbiamo scelto di essere puri e mai velati e dobbiamo continuare su questa strada quindi l'amministrazione di Marco Carianni anche dal punto di vista della comunicazione sarà un'amministrazione chiara diretta e coerente ora nessun escluso si lavori tutti con lo stesso entusiasmo per risanare risollevare e valorizzare Floridia iscriviti al nostro canale